Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre al giorno. Domani mattinata, già a partire da questa notte, avremo nevicate sulle coste adriatiche, specialmente sulle Marche, fin quasi sui 150 metri di altitudine. Nevicate completamente in pianura, specialmente sull'Emilia Romagna, quindi verranno imbiancate città come Bologna, Sassuolo, Modena, eccetera, eccetera, con anche 10-15 centimetri entro il mezzogiorno. In mattinata fiocchi che arriverebbero anche in Toscana e in Umbria quasi fino in pianura, però a tecchimento a partire dai 300 metri di altitudine, 300-350 metri. Perciò non si esclude qualche fiocco misto alla pioggia anche in città come Firenze. Possibili nevicate però con una probabilità nettamente minore sul Piemonte e parte della Lombardia, però che sarebbero miste alla pioggia. Ovviamente il tutto dipenderà se nevicherà o pioverà, se il cuscinetto freddo reggerà. Comunque ricapitolando, avremo nevicate anche abbondanti in pianura, soprattutto sull'Emilia Romagna, con nevicate che tra Bologna e il Modenese potrebbero accumulare anche fino a 20 centimetri. Per ora è tutto.